Festa fino a tardanotte per la vittoria del campionato di prima categoria del Bistretta, che dopo sei anni ritorna a disputare la promozione. Domenica, in un Salvatore Lentini stracolmo di tifosi e di entusiasmo, i biancazzurri mettono subito le cose in chiaro contro la marca apitata Nasitana e già arte il suo minuto si portano in vantaggio con Tony Arcuri, che raccoglie di testa un cross del migliore in campo, Pruiti, e batte un colpevole portiere ospite per l'1-0 che fa scoppiare di gioia i supporter Amastradini. Il Bistretta presta sull'acceleratore e al diciottesimo un ispirato Pruiti viene atterrato in aria e l'arbitro della partita, il signor Lapaglia di Enna, concede il sacrosanto Penarti, che lo stesso numero 14 trasforma con freddezza. I padroni di casa, sulle ali dell'entusiasmo, continuano ad attaccare per chiudere già la pratica nel primo tempo e ci riescono ancora con Giuseppe Pruiti, che si invole in solitario verso l'area avversaria e da posizione impossibile batte l'estremo difensore ospite per il 3-0 che manda in estasi il Salvatore Lentini. La seconda frazione si apre con il gol del 4-0 firmato ancora da Arcuri, sempre di testa e sempre su assist del solito Pruiti, autore quindi di due gol e due passaggi decisivi. Da qui tante sostituzioni e inizio della festa della polisportiva mistretta e nel mezzo si regista il gol della bandiera della Nasitana con Balleriano, bravo ad approfittare di una dormita della retroguardia di casa e battere il secondo portiere del mistretta, Fai Laci, entrato al posto del titolare Ba. Al tipice fischio dell'arbitro inizia la grande festa della polisportiva, prima in campo, poi negli spogliatoi e poi per le vie del centro, tra caroselli di auto, sbandierate, cori e tanta felicità per un traguardo che si attendeva da tempo e per il quale la società ha fatto degli investimenti per raggiungere un obiettivo che fin dall'inizio della stagione era stato apertamente dichiarato dall'entourage a Mastradino, ovvero il ritorno nel campionato di promozione. Soddisfazione per tutti, soprattutto per me, ci tenevo tantissimo dopo una vita che gioco qua, adesso all'enavo, è il giorno più bello della mia vita calcistica e penso di uno dei più belli della storia di mistretta. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Ma questa vittoria la voglio dedicare intanto a tutti i tifosi, ai miei genitori, personalmente che sono stati sempre vicini a me e poi una dedica particolare la faccio a Giuseppe Marcini che oggi purtroppo per causa del Covid non è potuto essere qui con noi e poi lasciatemi fare una dedica a una persona speciale che oggi non era con noi fisicamente, però mentalmente era con noi, con il cuore che è Orazio Basile che per noi è sempre presente e lo sarà finché metteremo piede in questo campo. E' bellissimo insieme ai ragazzi e a tutti i nostri tifosi festeggiare in casa la vittoria del campionato, sono felicissimo, sono felicissimo. Che cosa promettano i tifosi per la prossima stagione? Un'ottima squadra come sempre, il mistretta non si ferma qua. Sì, è stata una cosa fantastica concludere questa partita, il campionato con la ciliegina sulla torta perché abbiamo fatto tutto un gran campionato. Io faccio una critica su me stesso, sono mancato cinque partite per problemi fisici e non potevo rientrare nel migliorare dei modi e sono contentissimo. L'isportiva torna in promozione, un risultato per la sua città e soprattutto una visibilità migliore per la mistretta. E' un ulteriore impegno da mettere per creare le condizioni affinché le infrastrutture sportive siano adeguate e degne di questa squadra.